Ciao a tutti amici e amici, benvenuti nel canale, io sono Alessio e sono ancora qui su Hitman PC VR perché in questi giorni l'ho provato più a fondo dopo il mio video iniziale, proprio prima impressioni che vi lascio il link qua sopra, però in quel video ovviamente era proprio una prima impressione super iniziale del gioco ho approfondito adesso il gioco, ho fatto un po' di missioni, ho fatto 3-4 missioni, quindi ho provato un po' tutto quello che c'è da provare e in questo video vi voglio fare proprio un po' una guida con un po' di trucchi e consigli per giocare a Hitman PC VR al meglio dopo la sigla vi dico quali sono eccoci qui quindi, allora su questo gioco in questi giorni ne sono state dette di tutti i colori sulla versione PC VR che è una versione ingiocabile, che non si riesce nemmeno ad avanzare con il personaggio a capire dove si va addirittura che l'intelligenza artificiale è stata peggiorata nella versione PC VR rispetto alla versione flat o quella PSVR tutte cose un po' senza senso e comunque in questo video voglio mostrarvi, perché a me piace mostrarvi le cose come stanno di questa versione VR di Hitman che sicuramente non è perfetta, sicuramente ha tanti difetti ma secondo me non fa proprio così schifo come l'hanno descritto alcuni la cosa fondamentale però è che il primo consiglio fondamentale che voglio darvi è giocate al gioco se vi piace perché non state ad ascoltare le altre persone cosa vi dicono di fare se vi dicono di giocarlo o di non giocarlo io sono il primo che non dovete assolutamente ascoltare però il primo consiglio veramente che vi voglio dare su questo gioco è provatelo la modalità VR come ho spiegato anche in un altro video è assolutamente gratuita perché il gioco flat è a pagamento ma la versione VR è gratuita quindi se non riuscite a giocare in VR potete giocarsi tranquillamente in flat io capisco che chi voleva comprarlo proprio per giocarci in VR possa rimanere deluso da certe cose in ogni caso il gioco è anche disponibile sul game pass io mi sono fatto per esempio un mese di game pass a 1 euro pur avendo già fatto non so perché me l'ha dato ancora come pozione comunque se l'avevate già attivato il game pass costa 10 euro quindi al prezzo di una pizza e una bibita vi togliete almeno questo prurito e vedete voi se questo gioco fa veramente per voi o no questo è il primo più grande consiglio che vi voglio dare un altro consiglio molto importante che vi voglio dare prima di iniziare è di giocare questo gioco seduti infatti questo gioco è stato pensato principalmente per il pad e per il PSVR anche se sono stati aggiunti i motion controller che comunque sono molto più immersivi avere le due mani separate rispetto a giocare con un pad unito le meccaniche fondamentalmente come vedremo anche dopo sono rimaste le stesse se io mi sposto per esempio di qua ok vedete che il corpo non segue i miei spostamenti quindi non c'è il room scale anche se si vociferava a dire la verità che nel gioco addirittura il personaggio rimaneva fermo quando te ti giravi sono venute fuori anche queste voci qua e adesso io vi dimostro che non è assolutamente vero perché se io mi giro vedete il personaggio assolutamente si gira con me quindi anche questa cosa che era stata detta non è assolutamente vera vedete il personaggio cioè io adesso se vado avanti sono girato di spalle vado avanti e quindi se io mi giro di 180 gradi e vado avanti vado sempre avanti non è che vado indietro quindi la rotazione fisica si può assolutamente utilizzare quindi anche questa è una grande cagata che è stata detta ok prima di iniziare a vedere un po' in pratica come funziona il gioco e come potessero godere al meglio in VR volevo dirvi un altro paio di cose che sono presenti nei menu allora innanzitutto c'è all'interno della schermata sottotitoli c'è la possibilità di mettere i sottotitoli in realtà virtuale tra l'altro il menu non c'è un puntatore laser ma si comanda con l'analogico e con i tasti e con i grip si cambiano le schede e con l'analogico di sinistra si scelgono le schede e con il tasto A si seleziona e con il tasto B si va indietro quindi perfettamente come se si avesse un pad non vedo neanche questa difficoltà che è anche emersa in alcuni di non riuscire nemmeno a navigare i menu comunque vabbè in questa scheda opzioni quindi sottotitoli VR se volete attivarli metteteli e che comunque sono un pregio del gioco e sicuramente che a meno i sottotitoli sono assolutamente leggibili adesso li tolgo perché magari rompono un po' le scatole un'altra cosa fondamentale che questo non si capisce bene che è disattivata però è così e quindi va attivata a mano all'interno del tab giocabilità andiamo ad attivare l'autosalvataggio VR che di default appunto è disattivato noi mettiamo sì così almeno il gioco ha l'autosalvataggio e non dobbiamo sempre ricordarci noi di salvare per quanto riguarda la grafica le lamentelle sono state che il gioco era talmente blurrato talmente poco nitido che sembrava come la versione PSVR se non peggio devo dire la verità il gioco non è nitidissimo come possono essere altri giochi VR però con un paio di accorgimenti secondo me può diventare assolutamente godibile e assolutamente superiore ovviamente alla versione PSVR innanzitutto bisogna dire che i dettagli massimi sono pensati per la versione flat si sa che quando si va a giocare in VR bisogna abbassare molti dettagli rispetto alla versione flat altrimenti il gioco non va assolutamente a scatti tra l'altro Hitman ha anche un'opzione interna che non è possibile toccare c'è uno scaler interno che scala automaticamente la risoluzione per mantenere il framerate costante è un'opzione purtroppo che non si può disattivare e che tra l'altro è molto aggressiva per quello sicuramente molti di quelli che avranno avuto problemi di visuale poco nitida è perché hanno sparato i dettagli al massimo e lo scaler gli ha tagliato la risoluzione e l'ha segata per non fare andare il gioco a scatti e di conseguenza la visuale è poco nitida quindi il mio consiglio è di mettere intanto qualità VR che non si può cambiare da qui ma prima di avviare il gioco mettiamola in base livello di dettaglio standard qualità texture possiamo mettere pure alte o extra comunque queste qua non incidono più che altro sulla prestazioni ma sulla VRAM quindi se vediamo che la RAM è abbastanza libera come nel mio caso possiamo pure mettere le altre filtro texture filtro anisotropico qualità delle ombre mettiamo tutte come opzioni standard oppure base anche simulazione qualità mettiamo base e soprattutto una cosa fondamentale secondo me il livello di dettaglio lasciamolo su standard avremo un po' di effetto pop-in in più non esagerato come la versione PSVR che proprio a 2 metri appaiono gli NPC qua comunque avremo comunque un buon level of detail abbastanza in profondità però ho visto che mettendo più alto proprio questo scaller che non può essere disattivato ti sega veramente tanto la risoluzione soprattutto quando si vuole aumentare il livello di dettaglio quindi teniamolo su standard che comunque va bene e con queste impostazioni devo dire che graficamente è comunque abbastanza nitido non è ovviamente Half-Life Alyx non potrebbe esserlo perché nessun gioco è come Half-Life Alyx però è comunque molto buono quindi chiarite queste cose un po' preliminari andiamo a vedere come funziona un po' il gameplay e come funziona appunto la giocabilità come funziona l'adattamento alla realtà virtuale un po' meglio rispetto al primo video che non sapevo ancora i comandi tra l'altro il tutorial VR per un motivo se lo schippi all'inizio e dopo non te lo fa più rifare ho provato in mille modi anche a mettermi offline e poi a ritornare online non c'è verso e comunque vabbè ho imparato un po' diciamo facendo un po' di pratica lo stesso un po' i comandi e come andrà meglio il nostro agente 47 in realtà virtuale innanzitutto qua vediamo che abbiamo degli oggetti per raccogliere basta appunto prendere premere il grip destro purtroppo funziona solo la mano destra ok sempre cosa derivata da PSVR e quindi non è una cosa diversa da quello che succede su PSVR tutte le cose ve lo dico subito così non mi ripeto più che vedrete adesso derivate da PSVR anche l'impugnatura a due mani delle armi eccetera ovviamente sfruttano al 5% 10 forse massimo quello che offre la PC VR in questo momento però sta a voi dopo vedere se queste cose sono proprio un muro invaricabile su cui dite no io ormai mi sono abituato a giocare in VR in questa maniera e giochi che non sfruttano i room scale che non sfruttano la presa con entrambe le mani non li voglio neanche vedere oppure se volete chiudere diciamo un po' un occhio su questi problemi su questi difetti e godervi lo stesso comunque Hitman in VR che è uno dei giochi più belli secondo me poi anche lì va a gusti sicuramente più grandi e più importanti che ci sono in questo momento nel panorama della realtà virtuale quindi detto questo vediamo quindi basta per raccogliere gli oggetti quindi grip di destra e lì si mette qua si apre una sfera bianca non so se si vede dove si possono mettere nell'inventario anche raccogliamo queste monete qua ok per aprire l'inventario una cosa che non mi funzionava molto bene nel primo video però poi l'ho sistemata si preme in questo caso il tasto Y del controller vedete appare l'inventario e si può selezionare l'oggetto che si vuole sempre con il grip della mano destra ok questo ho preso per esempio il laccetto questo per strangolare se devo rimetterlo via basta che me lo metto qui è sempre nella mia sfera che appare nel petto discorso armi allora le armi si afferrano sempre con la mano ok destra ok e vedete che io adesso la mano sinistra ad un certo punto quando mi avvicino si aggancerà all'arma in un aggancio tipo magnetico per dire che non è assolutamente realistico non è assolutamente un gran che anche perché la mano sinistra cioè non riesce a ruotare a cambiare la rotazione appunto dell'arma che viene che è affidata sempre alla mano destra quindi vi consiglio anche in questo caso di utilizzare le armi semplicemente con la mano destra lasciando perdere il discorso della mano sinistra anche questa cosa qui è identica su PSVR avendo un solo controller quindi si usa solamente il controller comunque questo è sicuramente un difetto molto importante ok anche qua quindi fucile a pompa quindi ovviamente se io sparo ok la ricarica adesso mi staranno venendo ad ispezionare però non importa al massimo ricarico la partita ok la ricarica è automatica si fa con un tasto anche qui deriva tutto dal discorso che non è un porting ma è una modalità VR aggiunta ad un gioco flat e che inizialmente deriva dalla versione PSVR questa versione PCVR che funziona esattamente nella stessa maniera dobbiamo poi sempre pensare che ci troviamo in un gioco della serie Hitman non in un gioco della serie Call of Duty quindi in teoria nelle missioni non dovremo mai andare in mezzo alla folla a sparare con il mitra ad ammazzare i nemici perché non è uno sparatutto nelle missioni che ho fatto io infatti che ne ho fatte già 4-5 le armi a due mani non le ho proprio mai ma proprio mai utilizzate il massimo che uso è comunque la pistola silenziata ok che adesso la vado a prendere eccola qui che si usa comunque con una mano sola volendo aiutarsi con la mira con l'altra ok con l'altra mano per stabilizzare la mira ma la pistola è assolutamente utilizzabile senza nessun problema quindi diciamo che il problema al di là della ricarica che si fa premendo un tasto che non è molto realistica il problema delle armi è un problema assolutamente secondario in questo gioco un'altra cosa molto importante è il discorso del movimento in molti si sono lamentati che non riescono a muoversi come vogliono in hitman e secondo me è perché c'è da attivare un'opzione nel menu che adesso ve la faccio vedere che all'interno di comfort VR anche qui ci sono un po' di opzioni non tante per mettere per esempio la rotazione a scatti o fluida il paraocchi e per chi soffre magari un po' di motion sickness anche se chi soffre di motion sickness questo o per chi soffre di motion sickness questo gioco non è più di tanto consigliato come primo gioco quindi giocate ad altro non è il vostro gioco quindi io ho messo ok movimento VR basato sulla testa ok quindi con questa opzione il personaggio ok si muove in base a dove io guardo quindi non c'è assolutamente problema a muoversi l'unica cosa è lo scatto ok lo scatto è affidato in maniera secondo me poco felice al grip sinistro e lo scatto invece come vedete funziona funziona nella direzione in cui io faccio andare la mano sinistra ok quindi abbiamo questo questa cosa un po' che la camminata segue la testa ma lo scatto segue comunque sempre la mano e questo sicuramente è un problemino però c'è una volta che si sa secondo me ci si può adattare tra l'altro giocando appunto come vi ho consigliato da seduti avremo comunque le mani sempre a 90 gradi rispetto al busto ma è lungo i fianchi e comunque la camminata normale anche con le braccia lungo i fianchi è assolutamente fattibile e anche comunque lo scatto quindi non vedo particolari problemi anche per quanto riguarda muoversi in realtà virtuale in questo gioco allora adesso andiamo a vedere come sono state tradotte un po' di azioni fisiche tipiche di Hitman come lo strangolare con il tipico cordino oppure con le mani e anche un po' come è stato appunto aggiunto l'iterazione i pugni eccetera con i vari oggetti adesso prendiamo come esempio sempre il nostro amico malcapitato qui sosia di Mike di virtual reality oasis ciao Mike ok allora la prima cosa che si possono utilizzare è in Hitman sono sicuramente i pugni basta con stringere i due grilletti ok e fare il pugno e possiamo colpire assolutamente con dei bei cazzotti i nostri nemici e farli crollare a terra e questo è sicuramente un modo molto divertente per atterrare i nemici ok adesso vediamo lo strangolamento con le mani come funziona basta avvicinarsi sempre pian pianino al malcapitato che vogliamo strangolare ok li mettiamo le mani vicino al collo vedete quando le mani hanno assumono questa forma proprio che si allargano in questa maniera basta premere contemporaneamente i due grilletti ok tenerli stretti finché appunto la nostra malcapitata vittima non sarà a terra svenuta quindi anche qui molto semplice avete visto una volta che si capisce il meccanismo non c'è nessun problema altro metodo per uccidere le nostre vittime è il cordino tipico di Hitman allora lo si prende come abbiamo visto prima con il grip destro per usarlo si deve premere il grilletto destro e poi in contemporanea il grilletto sinistro e lui lo aprirà teniamo tutti i grilletti sempre belli premuti avviciniamoci alla nostra vittima il cordino non funziona sempre benissimo però in teoria ho capito come farlo funzionare quasi sempre bisogna dare proprio uno strattone molto forte attorno al collo della vittima adesso vediamo se riesco a farlo in questo caso ok vedete che purtroppo non funziona molto bene come in questo caso non è funzionato benissimo questa cosa del cordino è un po' gliciata e deriva anche dalla versione psvr che era uguale adesso magari ho sbagliato un po' a fare il movimento prova a rifarlo un'altra volta vediamo se mi riesce meglio magari stando un po' più distante eccolo qua vedete adesso sono stato un po' più distante ho fatto un movimento molto più rapido ok e è partito subito l'animazione dello strangolamento sì ovviamente anche questa è una meccanica derivata dal flat che invia adattata alla VR che funziona diciamo abbastanza bene però non proprio benissimo un'altra meccanica che voglio mostrarvi è quella del lancio che questa è stata un po' modificata rispetto alla versione psvr perché per esempio facciamo il lancio della moneta in questo caso bisogna proprio lanciare fisicamente l'oggetto quindi per esempio bisogna allungare la mano sinistra ok premere il grilletto ok e apparirà questa specie di di curva diciamo di parabola che dovrebbe essere la parabola che segue l'oggetto e quindi quando abbiamo questa parabola qua attivata con la mano destra andremo a lanciare l'oggetto ok mollando il grip quando vogliamo lanciarlo e in questo caso in questo caso abbiamo lanciato l'oggetto adesso gli da un bel cazzotto così lo facciamo stare buono e questo appunto è il lancio è possibile anche prendere degli oggetti dallo scenario e nella stessa maniera lanciarli contro ai personaggi se gli oggetti sono ovviamente oggetti letali è possibile anche stordire oppure uccidere i personaggi in questa maniera qua vi faccio vedere solo l'ultima cosa che abbiamo già visto anche nell'altro video ma che funziona così ok come trascinare i corpi un'altra cosa come aprire le porte le porte si può premere sia il tasto ma si può anche semplicemente spingerle con la mano quindi anche questa cosa qui diciamo è stata abbastanza aggiunta diciamo dalla versione flat ok quindi in questo caso vedete per trascinare il corpo il personaggio si abbassa automaticamente per questo consiglio di giocare da seduti perché altrimenti si avrà sempre questo alzarsi abbassarsi che da in piedi non è proprio bellissimo tra l'altro adesso occultiamo il corpo dentro l'armadio che si fa premendo un tasto anche questo trasposizione che deriva dal flat comunque vedete che le meccaniche riprese dal flat in VR alcune sono state un po' adattate quelle che probabilmente si poteva maggiormente senza scoinvolgere il codice di gioco alcune sono rimaste uguali e anche per questo motivo quindi vi consiglio di giocarlo da seduti anche perché questo gioco è un gioco dove dovrete passare tanto tempo a esplorare le ambientazioni e tanto tempo a interagire con gli NPC per capire la strada la via giusta per uccidere la vostra vittima ok quindi passerete sicuramente vi passeranno via le ore in maniera molto veloce e secondo me anche per questo motivo forse è meglio giocarlo da seduti se no penso che la mia povera schiena sicuramente dopo neanche un'ora è distrutta e penso anche quella della maggior parte di voi comunque in ogni caso nonostante queste meccaniche vi ho dimostrato che si può giocare tranquillamente anche da in piedi ecco questi erano un po' i trucchi e i consigli che volevo farvi vedere per che possiate godervi anche voi di Hitman 3 PC VR al meglio una modalità VR di Hitman che poteva e doveva sicuramente essere curata di più una modalità VR che secondo me è insufficiente per quello che il gioco poteva offrire che è veramente veramente tantissimo il gioco a me personalmente piace tantissimo se a voi poi non mi piace il genere è un altro discorso però è un gioco grandissimo con tantissime cose da fare ambienti ricostruiti veramente in maniera pazzesca e solo l'esplorazione degli ambienti in realtà virtuale secondo me merita di fare un giro in questo gioco un gioco che ripeto con un euro massimo 10 euro potete provarlo sul game pass quindi ultima cosa che voglio consiglio proprio che voglio darvi finale provatelo sul game pass e decidete voi con la vostra testa se è un gioco che fa per voi oppure no per quanto mi riguarda dal vostro lessback to VR è tutto iscrivetevi al canale ci vediamo al prossimo video e ai prossimi video magari che mi verrà voglia ancora di fare Sweetiman magari facendovi vedere proprio qualche missione intera più avanzata fatta in realtà virtuale per il momento però è tutto ci vediamo al prossimo video ciao a tutti